Tartaria. L'impero nascosto. Il presidente russo Vladimir Putin rende pubblico il nuovo archivio di Tartaria. Di Medea Grir. 27 novembre 2024. Traduzione, audio e video, da Andrea Vitale. La storia riscritta. Il presidente russo Vladimir Putin pubblica gli sconvolgenti archivi di Tartaria, svelando la verità su un impero nascosto cancellato dal tempo. Guarda il video svalorditivo che sta scuotendo il mondo fino alle sue fondamenta. In una rivelazione epocale, il presidente russo Vladimir Putin prende d'assalto il mondo, inaugurando un nuovo archivio e gettando luce sulla storia oscura dell'impero un tempo colossale, Tartaria. Un fantasma del passato riemerge, invitandoci a riesaminare la nostra comprensione della storia mondiale. Il freddo giorno di gennaio del 15 è stato inciso per sempre negli annali della storia. Il presidente russo Vladimir Putin, un enigma a pieno titolo, ha inaugurato un nuovo archivio, un tesoro che rivela un regno nascosto della storia. Un guardiano silenzioso del ricco passato della nazione, questo deposito avrebbe reso pubbliche le mappe di Tartaria. La domanda che ondeggiava sulla punta delle labbra di tutti, perché è significativo? Bene, miei cari lettori, le implicazioni sono davvero importanti. Questa mossa ha segnato un profondo cambiamento di paradigma. La Russia, una nazione dalla storia stratificata e dalle tradizioni radicate, ha deciso di decantare le sue vere narrazioni storiche non contraffatte, liberandosi dalle catene della storiografia ortodossa. Perché? Perché il potere di una nazione risiede nella sua storia. È la bussola che orienta il futuro, la radice che nutre l'identità nazionale. Una nazione senza la sua storia è come una nave alla deriva nel mare in tempesta, che vaga senza meta senza un porto in vista. La narrazione storica convenzionale in Russia, simile a un racconto in tessuto nel tessuto dei programmi accademici, ha origini che risalgono al diciottesimo secolo. È concepita in base al concetto biblico ebraico di storia, un'eredità dei Romanov, i sovrani russi di un tempo. Tuttavia, questa narrazione ha troncato più di 5500 anni del ricco arazzo del regno, una conseguenza della transizione dal calendario originale al calendario giuliano. La federazione russa si trova ora sull'orlo di un cambiamento di paradigma. Sta elaborando un concetto completamente nuovo di istruzione, una revisione radicale dei libri di storia che sono stati sfornati negli ultimi due decenni sotto leggi da distituzioni educative occidentali e organizzazioni non-profit. Il viaggio per rivendicare la sua storia, la sua vera identità, è iniziato sul serio. Il punto focale di questo viaggio è Tartaria, un misterioso impero relegato ai margini della storia globale. Per molti, questo nome potrebbe suonare stonato, un vago residuo di una tradizione dimenticata. Mentre i racconti delle piramidi egiziane, della grandezza dell'impero persiano, della resilienza ottomana e delle conquiste romane popolano i nostri libri di testo, la saga di Tartaria rimane curiosamente assente. Nonostante metta in ombra questi imperi in termini di vasta estensione territoriale, Tartaria è stata vistosamente assente dal discorso storico. Fino ad ora. Nel corso degli anni, questo vasto impero ha avuto vari soprannomi, Rassenia, Scatia e infine Tartaria. Storici come Yelena Lyubimova e Dmitry Milnikov, tra gli altri, hanno iniziato a colmare il vuoto, gettando luce su questa enorme entità statale. Distribuita su diversi continenti, la Tartaria ospitava milioni di persone che vivevano in armonia, coltivando una cultura autosufficiente radicata in virtù spirituali e morali. Avevano una profonda riverenza per gli antenati, la giustizia, i legami familiari e la loro patria. I tartari, come erano conosciuti gli abitanti, erano una razza impressionante. Alti, rossi di capelli, bianchi di pelle e dotati di accattivanti occhi azzurri, verdi o grigi, questi slaviariani e russi possedevano un'intrigante e giusta posizione di caratteristiche. Erano amichevoli e cordiali in tempo di pace, ma coraggiosi e spietati in battaglia. In tempo di vittoria, erano giusti e compassionevoli, e durante le avversità, rimanevano saldi. Il loro spirito indomito derivava dalla loro incrollabile determinazione a proteggere il loro road, la loro patria, e a sostenere la purezza morale e la fede dei loro antenati, rendendoli quasi invincibili. La prima edizione dell'Enciclopedia Britannica, pubblicata nel 1771, fornisce una affascinante panoramica di questo enigmatico impero. Estendendosi dagli orali all'Alaska e dalla nuova terra al Tibet, la Tartaria era un'entità formidabile nell'Asia settentrionale, fiancheggiata dalla Siberia a nord e a ovest. Era un complesso mosaico di tribù e popoli diversi come gli Astrakhan, i Cherkes, i Dagestaniani, i Calmi Tartari, i Tartari Usbechi, i Mogula e i Tartari tibetani, ognuno con la propria cultura e il proprio retaggio uni. La Tartaria era una testimonianza dell'armonia che poteva esistere in mezzo alla diversità. Nonostante la sua enorme portata e il suo significato culturale, l'esistenza di Tartaria fu cancellata dalle pagine della storia con l'alba del diciottesimo secolo. Il più grande impero del mondo, un tempo ben visibile nella mappa dell'Enciclopedia Britannica del 1771, svanì nell'oblio. Dove sono i resti di questo impero un tempo grandioso? Che ne è stato dei suoi milioni di abitanti? Perché questa straordinaria civiltà è stata cancellata dai nostri libri di storia? Sono domande che hanno tormentato storici e profani. La misteriosa scomparsa di Tartaria dalle mappe, dai libri e dalla memoria collettiva è sconcertante. Le successive edizioni dell'Enciclopedia Britannica non recano traccia della sua esistenza. Una parte significativa della storia umana, che abbraccia millenni, sembra essere stata inghiottita dalle sabbie del tempo. La rivelazione degli archivi di Tartaria segna un momento critico nella ricerca della verità. La federazione russa ha compiuto un passo monumentale verso la riscrittura della storia di Tartaria, illuminando questo regno finora inesplorato. Riusciremo finalmente a scoprire la verità su questo colossale impero? Tartaria verrà reintegrata negli annali della storia mondiale? Una cosa è certa, la grande narrazione della civiltà umana è incompleta senza riconoscere l'esistenza e i contributi di Tartaria. La rivelazione di questi archivi è un chiaro invito agli storici, agli studiosi e ai cercatori della verità in tutto il mondo a liberarsi dei loro pregiudizi e delle loro idee preconcette, ad addentrarsi nel labirinto della storia e a scoprire la verità su Tartaria, l'impero invisibile. La narrazione della storia mondiale è simile a un vasto puzzle, e Tartaria è un pezzo mancante. Mentre navighiamo attraverso il ventunesimo secolo, speriamo di poter completare questo puzzle, assicurandoci che il vero arazzo della civiltà umana venga finalmente svelato. Perché la resurrezione di Tartaria non è solo una vittoria per la Russia, ma per l'umanità in generale. Dopotutto, la fiamma della verità splende più luminosa negli angoli più bui dell'oblio.